Siamo al momento dell'intervista doppia, cerchiamo anche di concretizzare un po' tutto quello che ci siamo detti nelle tavole rotonde precedenti con l'esperienza di una persona che ci può parlare anche di come si passa da azienda a conduzione familiare a un approccio multinazionale. Allora se vuole raccontare innanzitutto la sua esperienza così cerchiamo anche di focalizzarci su alcuni temi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giordano Ripomonti, dopo una formazione e una carriera prettamente in aziende multinazionali molto strutturati quali Siemens S.P.A., Nokia o Siemens Telecomunicazioni, Dieci anni fa sono stato chiamato ad accettare una sfida, è stata proprio una grande sfida, quando un'azienda multinazionale svizzera ha comprato un'azienda imprenditoriale italiana, competitors del gruppo svizzero per allargare il portfoglio. La cosa più unica che è rara, che è stato questo caso, è un business case secondo me da studiare all'università, è che tutto il management è stato confermato, in quanto l'imprenditore era colui che faceva business, era ed è una persona geniale, una dei pochi che ho conosciuto veramente geniali, ai tempi ho lavorato anche con Colau, ma questo è proprio un classico imprenditore italiano. E quindi mi sono trovato a accettare questa grande sfida di implementare le regole, i processi, e le procedure di un'azienda multinazionale svizzera in un'azienda prettamente familiare italiana dove c'era la grossa dicotomia che i target dell'imprenditore non erano i target dell'azienda multinazionale. Quindi l'imprenditore per lui ancora come adesso è business first, customer first, mentre per quanto riguardava il gruppo che oltretutto in dieci anni è stato venduto due volte, quindi siamo passati da un fondo di private equity a un grosso fondo cinese, quindi cambiando anche tutta la struttura organizzativa, quindi c'era questa dicotomia e io mi sono trovato a mediare, a mediare nel senso che sposo veramente quello che è stato detto prima a livello teorico, nel senso che il CFO è l'unico che conosce i processi, che conosce le procedure, ma soprattutto conosce le persone, l'azienda è fatta di persone. Per darvi un'idea noi il 2018 l'abbiamo chiuso, siamo un gruppo di tre aziende in Italia con più di 180 dipendenti, FTE circa 300, 3 agenti, consulenti, procacciatori, con un volume d'affare di circa 250 milioni di euro. E abbiamo implementato i cosiddetti processi amministrativi, i processi di reporting, ma la cosa più difficile è stata implementare e dare informazioni al management del gruppo internazionale, nel senso che l'amministratore delegato anche giustamente non era abituato a fare riunioni, conference, call mensile, a dover giustificare quello che stava facendo. Fortunatamente sono un CFO molto rigido ma anche molto estroverso e quindi ho cambiato atteggiamento, il mio atteggiamento dall'inizio per farmi accettare non è stato quello di controllore, perché nel momento in cui l'imprenditore si sente controllato va sulla difensiva. Ho visto usare una parola che secondo me è fondamentale, business partner. Se il CFO non conosce il business viene tagliato fuori da tutte le grosse problematiche aziendali e da tutte le grosse decisioni. Quindi anche umilmente, nonostante noi lavoriamo in ambiente sportivo dove tutti parlano di calcio, tutti parlano di sci, dover acquisire e vendere diritti media, diritti marketing, occuparsi di produzioni televisive post-produzione è stato veramente un cambiamento epocale per me e quindi ho fatto corsi tecnici per non tecnici per capire di cosa parlavano le mie interfacce, altrimenti non avrei capito dove mi trovavo. Perché lei è entrato in azienda? Io sono entrato in azienda all'inizio del 2009, quando l'azienda era stata comprata da un anno da questo gruppo internazionale e il CFO che c'era era stato reputato non idoneo in quanto era un CFO giustamente abituato alle logiche di un'azienda italiana. Un responsabile amministrativo. Un responsabile amministrativo, dove però non venivano fatte le chiusure mensili, non c'erano i reporting package, non c'era un sistema di reporting, non si era abituati a fare delle call trimestrali, non si era abituati anche a interfacciarsi con i sindaci e con Ernest anche a revisore dei conti, quindi è stato proprio un cambiamento epocale per tutta l'azienda, perché poi quando un'azienda è imprenditoriale non è solo l'imprenditore che basa l'azienda su se stessa, ma sono anche tutti i manager che hanno come unico capo l'imprenditore e adeguano il loro stile di management a quello dell'imprenditore, quindi imbrigliare non solo l'imprenditore ma tutti i manager è la cosa più pericolosa, perché se un imprenditore o un venditore si sente imbrigliato, alla fine scappa. Da dove è partito in questo processo di trasformazione? Quali sono stati i primi step? I primi step devo dire sono stati più facili, sono stati più facili perché dovevamo implementare i sistemi di accounting e sistemi di reporting, quindi giocavo in casa, nel senso che dovevo implementare SAP, dovevo implementare Hyperion, quindi il core business di un CFO, si è fatto di necessità virtù soprattutto anche per le skill delle persone che ho trovato, ho dovuto organizzare un team di controllo e di gestione che non esisteva, però lì è stato un po' l'aspetto più facile e quando invece ho iniziato a essere coinvolto pesantemente nel business e quindi bisognava riportare a casa madre, a cui davamo un sacco di dati, perché questa secondo me è una delle grosse particolarità del CFO in questo momento, in azienda, nel multinazionale, per i fondi circolano un sacco di dati, abbiamo i sistemi informativi migliori al mondo, però siamo carenti e lacunosi nelle informazioni, facciamo talmente tante chiusure, siamo talmente coinvolti in 6-7 giorni di chiusure, di reporting, che alla fine secondo me, come è stato detto prima, non riusciamo a dare valore aggiunto. Il valore aggiunto è quello che noi diamo di nostro sul livello di informazione del business, ma se non conosciamo il business, non siamo coinvolti nel potere decisionale, ma soprattutto all'inizio della stesura dei contratti, il valore aggiunto del CFO, secondo me non viene percepito, ma non viene neanche coinvolto nelle decisioni fondamentali. Si è parlato molto anche di digital e dell'impatto della digitalizzazione nel ruolo del CFO, come in fronte avete creato una realtà a sé stante, come mai la decisione di far confluire tutte quante le funzioni digital appunto in InfrontX? Infront ha preso una decisione addirittura estremista, nel senso che avevamo tanti reparti che parlavano di digital, sia nell'acquisizione dei diritti, sia nella produzione, che nella post-produzione, nei format, ma per dare ai tutti i clienti un'interfaccia unica si è deciso a casa madre di costituire un'azienda, un'azienda a sé stante, detenuta al 100% del gruppo, ma fuori da Infront, nel senso che il nostro approccio è stato, tutti parlano di digital, digital è tutto ormai, qualsiasi cosa a tutti i livelli, noi vogliamo dare una risposta univoca a tutte le richieste, quindi abbiamo fatto una sorta di academy che può essere trasformata in un'azienda, dove la cosa veramente impressionante è che l'età media dei dipendenti sono tra i 25 e i 35 anni, perché purtroppo l'azienda è in trasformazione, noi abbiamo questo esempio su business che è fenomenale, in Italia stiamo ancora vendendo i diritti televisivi del calcio della serie A a Sky, a Perform o a M&G, l'evento mondiale per eccellenza di sport e Super Bowl in America l'anno scorso è stato venduto su Twitter e su Facebook, i ragazzi non guardano più la televisione, i ragazzi non guardano la partita di calcio, i ragazzi guardano 32 secondi di highlights, quindi anche noi stiamo cercando di cambiare il mondo sportivo e non è facile perché il mondo sportivo è il quarto mercato in Italia ma anche un fenomeno popolare, quindi è veramente difficile, stiamo cercando di evolverci per cercare di far evolvere le società di calcio. Come cambia anche lo schema organizzativo avendo una realtà a sé stante? La pervasività in tutte le funzioni come viene gestita? Viene gestita strutturandosi ed è per quello che il cammino è stato molto lungo, per quello è stato fondamentale il ruolo di stabilire processi, procedure, regole, ribaltamento dei costi che all'inizio sembrava solo un imbrigliare i vari dipartimenti ma poi ha portato a questo, nel senso non c'è più la divisione tra profit center e cost center, la necessità di tutti è portare business in azienda perché è inutile dirlo, quando un'azienda viene acquistata e lascia management è per dare continuità, ma l'azienda deve crescere in termini di fatturato e di margini, quello lo si può fare solo riducendo i costi e portando nuove opportunità di business. Secondo noi il futuro è sul digital e c'è stato questo grosso investimento sul digital che per anni e anni porterà, secondo me, un valore aggiunto a noi e tutti i nostri clienti. Diceva prima delle due vendite anche dell'azienda, insieme a quelle immagino ci siano stati altri momenti di criticità da gestire, come si è rapportato al resto dell'azienda in quei momenti. L'azienda è cresciuta tanto, fortunatamente è cresciuta tanto nel momento in cui avevamo messo in sicurezza il reparto finance, quindi procedure, processi cristallizzati. Abbiamo comprato due aziende, ci sono state tre fusioni, ma soprattutto il gruppo è stato venduto prima un fondo di private equity UK, Bridgepoint, e poi adesso è stato venduto un magnate cinese con delle logiche totalmente diverse. Fortunatamente quello che sono riuscito a fare, io con i miei colleghi, abbiamo, perché una delle necessità più forti è quella di avere gli skill corretti in azienda. Cambiando l'azienda, cambiando il business, bisogna purtroppo o per fortuna avere gli skill necessari. Siamo riusciti a far inserire dei bravi giovani in azienda, in tutti i dipartimenti, non solo nel controllo di gestione, ma ci vuole anche un'amministrazione per il discorso del doppio bilancio, ci vuole nella tesoreria, per il discorso del cash flow, ma ci vuole anche nel marketing, quindi attingendo anche a dei grossi accordi con le università, siamo riusciti ad attingere a risorse giovani, ma molto preziose e pregiate che abbiamo fatto crescere in azienda. E solo grazie a queste siamo riusciti a colmare le lacune, perché il day by day va garantito e poi ci sono operazioni straordinarie, che sono operazioni di acquisizione, operazioni di fusioni, di vendita. Noi siamo anche la branch più grande al mondo, quindi quando un gruppo ci compra la due diligence commerciale viene fatta da noi, quindi siamo sempre coinvolti con le banche d'affari, con l'atomo, però è veramente interessante perché è un'azienda veramente dinamica e ne abbiamo fatte tante. Uno degli aspetti che ancora non abbiamo avuto modo di approfondire è quello anche del cambiamento giuridico e patrimoniale, perché ovviamente in un'era di innovazioni anche tecnologiche cambiano anche le regolamentazioni. Assolutamente, noi ci siamo trasformati da SRL e SPA per varie ragioni, ci siamo dotati di un consiglio di amministrazione più allargato, abbiamo implementato la 231, fatto epocale per noi è stato anche l'introduzione della compliance. Come potete immaginare il mondo del calcio tra sponsorizzazioni, biglietteria, parlare di compliance sembrava quasi una bestemmia, scusate il termine. Ce l'abbiamo fatta, non è stato facile convincere alcuni nostri colleghi che andava fatta. Il segreto qua, secondo me, è far passare il finance non come dei controllori, ma veramente come delle persone che supportano il business e agevolano il business. Il messaggio che è sempre tentato di dare, se voi coinvolgete ai commerciali, ai contract manager, il finance alla fine del processo, vi può solo dire no o sì. Se lo coinvolgete all'inizio, vi può dire come fare meglio le cose per l'interesse vostro e per l'interesse dell'azienda. Ecco, questi famosi tre consigli per il passaggio generazionale che si sente di dare? Io non mi sento di dare consigli. Io dalla mia esperienza posso dire che è stato fondamentale imporsi con l'autorevolezza e non con l'autorità. Questo è fondamentale. Parlare la stessa lingua dell'imprenditore, del commerciale, del marketing, quindi far percepire che quando loro parlano noi capiamo e diamo valore aggiunto, dall'altro punto di vista essere intransigenti, perché alla fine sono CFO su alcune cose o è bianco o è nero. Io su quello sono sempre stato, non sono simpatico sul lavoro, ho detto chiaramente, non sono responsabile del marketing che va agli eventi con gli agenti, perché alla fine dobbiamo avere secondo me un rigore che ci rappresenta e l'azienda è rappresentata da noi. Io sono convinto che il ruolo del CFO sia molto più importante di quello che si dica o di quello che venga ventilato in giro. Il CFO, se fa veramente il suo lavoro, dà valore aggiunto non solo ai processi ma anche al business. Ecco, nell'ottica di prevenire i rischi, si è parlato anche molto di risk management, anche su quell'aspetto ci sono stati cambiamenti significativi? Cambiamenti significativi sì, perché far sedere l'imprenditore o i commerciali o i venditori e dire quale cliente secondo te potrebbe avere dei problemi, perché secondo me il risk management non si basa solo sull'analisi dell'overdue, l'analisi dello scheduto, vedere i tempi di pagamento e fare fondi su i clienti che non pagano. Risk management è veramente un processo a 360 gradi che parte dai dipendenti, parte dai fornitori, parte dai clienti. Non voglio essere ripetitivo, ma se il CFO nella sua stanzetta, pigiando i dati, aspettando le informazioni a fine mese, non dà valore aggiunto. Se invece partecipa alle negoziazioni, vive la vita dell'azienda, conosce persone, sa quale cliente è critico, sa quale contratto ha delle potenzialità di rischio, perché anche se puoi fare il contratto più grosso con il broccaster a mondo più grosso, ma sai che la loro offerta era 10 e poi ti hanno offerto 15 e non possono pagare i 5, quello è un cliente che potenzialmente va svalutato. Qual è la sfida più importante che l'aspetta? La sfida più importante che mi aspetta è mettermi al passo coi tempi. Tutti parlano di digital, io sono uno che non è sui social, per dare un'idea, quindi anche quello non puoi capire Facebook, non puoi capire Twitter o Instagram se non ci vai. Ho sempre pensato che se ho bisogno di un amico, lo chiamo al telefono, lo incontro, stare al passo coi tempi, vuol dire secondo me utilizzare i social e magari parlare un po' più con i ragazzini in metropolitana che vedi che sono sempre lì attaccati ai cellulari, perché da lì capisci le nuove esigenze del mercato e degli utenti, perché non c'è più secondo me una distinzione come c'era un po' di anni fa sul business, quello che è business to consumers o quello che è business to business. Ormai è talmente un ibrido che bisogna sempre stare al passo coi tempi. Bene, io ringrazio Giordano Ripamonti di essere stato con noi, grazie. Grazie mille per l'invito.